Dinamica ancora da chiarire e responsabilità da attribuire per la morte di Simone Di Gregorio, il 35enne con problemi psichiatrici che domenica scorsa è tragicamente deceduto dopo essere stato bloccato dalle forze dell'ordine in evidente stato di agitazione, soccorso a Vittorio Emanuele a San Giovanni Tietino, è caricato in ambulanza per essere accompagnato dal 118 all'ospedale di Chieti, dove però il 35enne arriverà già privo di vita. Sul caso la procura tiatina ha aperto un'inchiesta, ma intanto al di là della cronaca e dei conseguenti aspetti giudiziari che la vicenda ha sollevato, resta il problema della carenza di servizi legati al settore della salute mentale, come rivela Tiziana Arista, presidente di Cosma, una delle associazioni che compongono l'osservatorio regionale di salute mentale. Purtroppo i servizi territoriali per la salute mentale si stanno addirittura indebolendo piuttosto che rafforzando e questo non va bene perché soprattutto per le persone che soffrono di questa malattia che rifiutano in qualche modo la cura o comunque sono resistenti, è necessario che sia la montagna ad andare da momento e quindi occorrono dei servizi che lavorino sul domicilio. La storia di questo ragazzo è emblematica da questo punto di vista e quindi bisogna rafforzare questi servizi che hanno dimostrato anche in questo caso la loro debolezza per mancanza di risorse e per diminuzione addirittura di personale. Vorrei aggiungere però due concetti velocissimi. Il primo rispetto all'utilizzo del taser perché se ne sta parlando, un richiamo solo alla norma che parla di appropriatezza, quindi va usato quando è appropriato, ecco bisognerà accertarlo se veramente era appropriato. La seconda è un pensiero alla famiglia colpito ovviamente dalle problematiche del figliolo, dallo stigma che ogni famiglia riceve quando a casa si ha una persona con problemi di salute mentale, stigma più o meno grave, ecco un pensiero alla famiglia che mi sembra doveroso. C'è ne rentola della sanità, quello della salute mentale è un settore che sconta un problema legato alla carenza di fondi che si traduce in carenza di personale e servizi a fronte di una crescita esponenziale delle problematiche psichiatriche nell'ultimo periodo legata al covid e al consumo di sostanze che determinano dipendenza e al ridosso delle festività il personale in ferie acuisce il problema della carenza di servizi a fronte però di problemi che in ferie non possono andare. Ci sono due problemi, innanzitutto c'è un problema proprio di percentuale numerico perché la salute mentale avrebbe dovuto avere finanziamenti secondo il piano nazionale della salute mentale e diversi piani sanitari regionali compreso quello abruzzese che si sono succeduti pare al 5% del valore del fondo sanitario di quella regione. In Abruzzo non ha mai superato il 3% ma una problematica simile l'abbiamo anche a livello nazionale. Il secondo è che mentre su altre malattie si interviene sempre di più con la tecnologia, con le macchine e quindi anche la riduzione del personale in parte viene compensata dalla maggiore capacità delle macchine e della tecnologia nel caso della salute mentale è solo un problema di uomini, di donne, di uomini e donne capaci di uomini e donne dotati della giusta empatia per mettersi in relazione con queste persone. Insomma i tagli a questo settore che ci sono stati anche negli anni legati al fatto che sicuramente la sanità è in crisi non significa che questi tagli siano dovuti a una diminuzione del problema? No, anzi con il Covid c'è stata anche un'esasperazione e con l'utilizzo delle sostanze. Questo è un grande problema, per esempio una questione che la regione Abruzzo deve risolvere che la ASL di Pescara deve risolvere in particolare è che il CERD sia all'interno del Dipartimento di Salute Mentale cioè che ci sia una integrazione, una convergenza tra le due problematiche perché vediamo che sono sempre più, come si dice, colloquiano sempre di più tra di loro insomma. Per quanto riguarda i servizi il tema è quello di mettere più risorse umane e quindi finanziarie sulla cosiddetta psichiatria territoriale perché i centri di salute mentale siano aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 quindi i servizi territoriali aperti e soprattutto maggiore lavoro a domicilio perché in questi casi bisogna andare a casa dalla famiglia, sostenerla, aiutarla e soprattutto dal malato che ha bisogno di operatori in grado di risolvere quei problemi che un familiare da solo non è assolutamente in grado di fare.